Mi chiamo Franco Roberti, sono nato a Napoli e faccio il magistrato da quasi 40 anni. Sono entrato per la prima volta in questo tribunale nel 1982 e qui si è svolta gran parte del mio percorso professionale. Questa è la Gran Sala o Sala dei Busti di Castel Capuano, un edificio costruito nel cuore di Napoli dai Normanni nel XII secolo. Attorno a me sono ricordati giuristi e magistrati che resero celebre il Foro di Napoli. È qui che si tiene la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario napoletano ed è un luogo che rappresenta molto per me. Nella mia carriera di magistrato mi sono occupato soprattutto di criminalità organizzata, istruendo i processi sulla ricostruzione dopo il terremoto dell'Irpinia nel 1980 e indagando sugli affari e i diritti della camorra napoletana e casertana. Da 2013 sono procuratore nazionale antimafia, chiamato a coordinare le 26 procure distrittuali antimafia sparse sul territorio italiano. Negli ultimi vent'anni abbiamo fatto tanto contro la criminalità. Abbiamo confiscato miliardi di euro di patrimoni illeciti e abbiamo assicurato alla giustizia migliaia di mafiosi. Ma c'è ancora tantissimo da fare. E' da qui che oggi passa il mio impegno per la giustizia e per la legalità. A Natale del 1991, a Casal di Principe, nel Casertano, un gruppo di sacerdoti scrisse una lettera aperta per impegnarsi contro la presenza della camorra in Campania e nella Versano in particolare. Era una lettera che parlava con una lucidità e una consapevolezza senza precedenti dei rischi che correva quel territorio da sempre ad alta densità criminale e chiedeva alle istituzioni di schierarsi, di dire apertamente da che parte si stava, con la camorra o con la legalità e la giustizia. Tra gli ispiratori di quel manifesto c'era Don Giuseppe Diana, un giovane parroco di Casal di Principe, cresciuto negli scout. Egli si riconosceva nel manifesto, lo vedeva come il fondamento del proprio ministero pastorale. Poco più di due anni dopo, il 19 marzo del 1994, Don Giuseppe Diana fu ucciso nella propria parrocchia di primo mattino, mentre si preparava di remessa. Il suo omicidio seguì di qualche mese quello di un altro sacerdote, Don Pino Puglisi, ucciso a Palermo nel quartiere di Brancaccio ad Achille e il mafiosi. Entrambi i sacerdoti erano nati, vivevano e operavano in quartieri ad alta densità criminale. E lo facevano impegnandosi per strappare i giovani alla criminalità organizzata, offrendo loro opportunità di lavoro, di impegno sociale, di vita. Per questo, proprio per questo, erano entrati nel mirino delle cosche criminali. Entrambe le vicende hanno poi avuto uno strascico amaro di bugie, di depistaggi, che avevano l'unico scopo di gettare fango sulle due figure dei sacerdoti. Si parlò di collusioni con le mafie, addirittura di storie di donne a giustificare il loro omicidio. Naturalmente, erano storie del tutto infondate, come poi riveleranno gli accertamenti giudiziari. Sia gli assassini di Don Pino Puglisi che quelli di Don Peppino Diana sono stati individuati e condannati con sentenze ormai definitive. Sappiamo chi sono i colpevoli e quali furono i moventi di quegli assassini. Pertanto, ciò che resta a distanza di tanti anni è il loro esempio di sacerdoti umili ma determinati nella difesa della legalità e della giustizia. Don Peppe è un prete sui generis per quel territorio. Non indossa spesso la tonaca ma soltanto il collarino, ogni tanto si concede un sigaro e inizia una vera e propria strategia pastorale davvero unica. E rifiutava quelle facili etichette che dovremmo rifiutare sempre tutti noi sacerdoti, quella di preti coraggio, preti antidroga, preti anticamorra, antimafia. lui si definiva semplicemente un prete perché preti tutti dovremmo essere contro le forme di violenza, di arroganza, di illegalità quando viene calpestata la libertà e la dignità delle persone. Prete. Questa è la chiesa di San Nicola a Casal di Principe, un piccolo paese in provincia di Caserta. È qui che la mattina del 19 marzo 1994 viene ucciso il parroco, Don Giuseppe Diana, per tutti Don Peppe. A Don Peppe, che insegnava religione in una scuola della zona, la comunità di Casale era molto legata. La sera stessa il paese si raccoglie in un incontro di preghiera e in chiesa si veglia la vara del sacerdote. Quest'altare era preparato per la Messa, ma Don Peppino era morto laggiù. Il giorno in cui fu ammazzato, il 19 marzo, era un sabato, io poi andai in comune, organizzammo un manifesto per convogare nel pomeriggio una manifestazione prima dei funerari. Il manifesto titolava così come Oscar Romero, come Don Puglisi. Così hanno ammazzato anche Don Diana. Quello di Don Peppe Diana è un omicidio che ha segnato uno spartiacque nella storia di Casal di Principe e di tutto il territorio casertano. Una terra di camorra, da sempre. Tutta questa violenza che sta succedendo è stata fabbricata e creata dallo Stato italiano. Questo è quello che penso io. Anche l'ucciseo del sacerdote Don Peppe? Anche quello. E perché lo pensa? Perché è così. Come lo vedo io, perché Casal di Principe? Le modalità del delitto riportano alla mente l'assassinio di Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia sei mesi prima a Palermo. E stupiscono, perché mai prima d'ora la camorra aveva colpito un prete. Delitto politico, secondo me, non è delitto politico. La camorra ha vinto ancora una volta. Noi, la camorra, la camorra esiste proprio. Perché è stato ucciso un prete? E che ne sa? Ognuno ha la sua ragione. La città il giorno dopo è smarrita. Lo sono soprattutto i suoi giovani studenti. Don Peppe cercava proprio di farci avere un futuro migliore in confronto a quello che stiamo vivendo, qui nell'Agraversano. Ma i ragazzi la debbano avere la speranza, perché noi cerchiamo di combattere la camorra, soprattutto studiando la scuola, studiando per avere noi un futuro migliore. Non essere noi soprattutto. E giovani, sì. Perché oggi qui in Campania non si può più stare. Ci parlava sempre di lottare contro la mafia, di non avere quindi... Cioè ci faceva sempre stare... Cioè era troppo bravo, era... Cioè non occupavo parole. Era una personalmente meravigliosa. Qualunque problema ci aiutava a risolvere, pure quando noi avevamo qualche problema personale, parlavamo con lui, ci dava dei consigli ottimi. Colpire Don Peppe significava dare un messaggio a tutti questi. Fatevi i fatti vostri, richiudetevi nelle case, perché noi colpiamo chiunque, anche il prete nella chiesa. Questo era il messaggio che alla fine ti arriva. E siamo tutti un po' scorsi di questa parte. Comunque, purtroppo, sono cose che devono capitare. Non sappiamo niente. Perché siamo... Non sappiamo niente. Secondo me è Stavani Gesù che ha voluto così. Casale sembra nascondersi. La gente ha paura di parlare, di esporsi e di farsi vedere. No, no, giri, giri dall'altra parte. Ma cos'è che vi irrita tanto? Cosa vi offende? Me lo dica. Lasciateci solamente vivere il nostro dolore. Ma il vostro dolore in questo momento è anche qualcosa di più, è anche il segno di un riscatto. Non venire semplicemente, diciamo, a colpire nei momenti di maggiore sconforto del cittadino, per favore. C'è solo sconforto o c'è anche voglia di reagire? Per favore, sì. Ma da quel momento nulla sarà più come prima. La gente ne parla di Stavani Gesù. Prima era un tabù. Non si poteva nominare. Non siamo mafiosi, come state dicendo voi. Esiste, come esiste qua, esiste dappertutto. Voi giornalisti state strumentalizzando su cosa state guadagnando. Non so che cosa vi credete di fare. La Camorra è un soggetto che è stato quindi creato. Esiste la violenza, come in tutti i paesi. Se dovessi parlare con una di queste persone, di questi assassini o di questi criminali in genere, che cosa gli diresti? Non ci sapevi parlare, non ci posso dire niente. Che ci trovate? Per esempio andatevene. Perché le dovevi dire andate? A me non mi fanno niente. Parlare del clan dei Casalesi era una cosa incredibile in quella zona, nel senso che nessuno si permetteva di pronunciare il nome di questo clan. Quasi che non esistesse. Cambierà ben poco quello che è successo. Perché? Perché tanto pessimismo? Perché ormai la Camorra è forte, non si ci fa a combatterla. Più forte di noi. E' una forza maggiore dello Stato. Parliamo di un periodo in cui il clan dei Casalesi percorreva le strade in corteo, in autovetture, con i mitra spianati, sparando in aria e urlando qui comandiamo noi. Passa oggi, passa domani, poi siamo di nuovo alla vita di tutti i giorni. Voi avete sentito le parole di preti impegnati come Monsignor Raffaele Nogaro, il Vescovo di Aversa. Loro hanno detto la Chiesa è all'avanguardia, la Chiesa può guidare la gente a una diversa coscienza. Voi ci credete? Per quanto riguarda la Chiesa, sì, però per quanto riguarda i cittadini è sempre uguale. La sera stessa dell'omicidio la gente scende in piazza contro la criminalità. Un fiume di persone silenzioso e commosso marcia per le strade di Casale. Io ricordo quelle facce dei ragazzi dell'azione cattolica che sfilavano con gli occhi rossi e con la bandiera dell'azione cattolica che apriva questo corteo lungo, silenzioso che passò per le strade di Casal di Principe attraverso tutto il centro storico. È un po' come avvenne anche il lunedì successivo, il giorno dei funerali. Ricordo che c'erano almeno 20.000 persone qui. ai funerali c'è tutta la città e dai palazzi pendono lenzuoli bianchi in segno di lutto e protesta come avvenne a Palermo dopo le stragi del 92. La gente ha sempre saputo che Don Peppi Diana era stato ammazzato dalla camorra. Il processo lo fa il popolo dappertutto. Quelli che ti conoscono i vicini di casa le voci che circolano all'interno del paese prima dei giudici prima della polizia prima arrivano i giudizi della gente che ti conosce e quei lenzuoli bianchi erano il giudizio che i casalesi esprimevano su Don Peppino e Don Peppino Diana era innocente. Questo accadde quel 21 marzo. In poco tempo l'eco del delitto arriva fino a Roma. Sento il bisogno di esprimere il vivo dolore il me suscitato dalla notizia dell'uccisione di Don Giuseppe Diana caroco della diocesi di Aversa colpito da spietati assassini mentre si apprestava a celebrare la Santa Messa. vuole al Signore far sì che il sacrificio di questo suo ministro produca frutti di sincera conversione di operosa concordia solidarietà e di pazza. Quando mi capita in Gomorra di scrivere di Don Peppe sono dieci anni che su di luce e silenzio un silenzio custodito e rotto allo stesso tempo soltanto da pochi ma sostanzialmente sul piano nazionale e internazionale Don Peppe è dimenticato. Giuseppe Diana nasce proprio in queste strade a Casal di Principe nel 1958 in famiglia lo chiamano Peppe o Peppino in seminario ci entra prestissimo per frequentare la scuola media e il liceo classico ad Aversa. e a Peppe era una giovane spenziva una giovane che teniva tutta la piazza svelta che mangiare dice lì non ricordo il mio figlio perché me l'hanno fatta scordare. ero una ragazza mi piace una ragazza insomma che è studiosa non avevo tutto visto mi chiamava la svolta della sua vita avviene quando si trasferisce a Napoli presso il seminario di Posillipo sede della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale è qui che studia Teologia prima di laurearsi in Filosofia presso l'Università Federico II di Napoli molti anni dopo. Poi mi chiamava la scienza medica a Casale e ho portato due medagli e la vita soli avevamo due medagli il ricordo il ricordo più antico del tango di Don Peppe risale ad un pellegrinaggio a Lourdes in quel periodo era un barilliere faceva il barilliere accompagnava gli ammalati a Lourdes in pellegrinaggio e Don Peppe ha fatto pure lui il barilliere in uno di questi pellegrinaggi ed è stato venuto giovanissimo forse non era neanche ancora sacerdote era ancora semiliarista nel 1978 comincia a frequentare gli scout dove fa il caporeparto Peppe ha 20 anni e l'impronta scout gli rimarrà impressa per tutta la vita un ricordo da punto di vista caratteriale è sempre a Lourdes ci siamo ritrovati lì al foyer che era un locale e l'ho trovato l'addente che stava con la guitarra in mano accendosi un gruppo numeroso di ragazzi di varia nazionalità mentre lui cantava canzone napoletana e intratteneva questi ragazzi questi chiaramente nessuno di quei ragazzi che stava intorno capiva che fosse un sacerdote un prete perché era vestito da scout come tanti altri e non aveva un segno particolare che non potesse definire che fosse un sacerdote in quegli anni Peppe ha anche dei ripensamenti vive un periodo di crisi spirituale lascia il seminario e si iscrive all'università Don Peppe decide di lasciare la veste talare di non fare più il sacerdote è dicendo così facendo una parola a vedere che significa a fare perché io non sono stato mai aggiungendo me perché ho già fatto il suo grado decido di iscriversi alla facoltà di ingegneria credo che fece anche qualche esame io vorrei sempre per una faccia aperta aggiuntato non è che mi pareva tranquillo che stava fuori e stava tranquillo stavo stesso che non sapeva doveva apriva a 10 e da c'è quando si mangia oggi mi dava la capesta e c'è che fa e c'è non si conviene che ci fai ma non è grande cosa è possibile ma cosa mi fa fare mi ha fatto sperare non so chi sono queste carte per i pangeli e questo ma chi ci dice a papà le cose ma non è bene per i posti lì in genere era tutta la vita mia che era già portafoso dopodiché però lui si rese conto che la sua vocazione non era quella di vestire panni civili ma quella di fare il sacerdote e quindi di di applicare nella società il messaggio cristiano dell'amore della carità e della giustizia superato il momento di smarrimento nel 1982 il giovane Peppino è ordinato sacerdote e diventa Don Peppe Diana era un sacerdote ma quando era un sacerdote però mi piaceva tutte le cose che a partire di pallone dopo fatti tutti i compiti suoi era troppo accadita questa cosa lui amava molto lo sport in Napoli addirittura qualche volta anche nella preghiera quando stavamo in chiesa a fare la nostra adorazione faceva a breviamo che c'era la partita dopo ci piaceva lo sport a lui però un sacerdote faceva come voleva fare perché come non stava fare un uomo da mezzo il 19 settembre 1989 diventa parroco della chiesa di San Nicola a Casal di Principe Don Peppe conosce il paese sa che quello non è un posto come gli altri è proprio questa motivazione che lo spinge a darsi subito da fare quando Don Peppe è diventato parroco lui si è fortemente impegnato all'interno della sua parrocchia per costruire gruppi giovanili e ragazzi che tendesse in qualche modo a portare avanti un'operazione culturale sostanzialmente toglierle dalla strada farli ritrovare intorno a temi sociali e culturali di un certo valore di un certo cristiani tra l'altro della sua scelta religiosa nel frattempo insegna all'istituto tecnico di Aversa il rapporto con gli studenti gli dà soddisfazione e rende Don Peppe una figura importante per la comunità casertana al di là dell'abito che indossa era il solito prete che non volesse fare poco come insegnante di religione però ora ho capito che era preoccupato il suo silenzio era preoccupazione qualcosa aveva all'interno Don Peppe non è stato il primo e non sarà nemmeno l'ultimo perché non si può fermare la camorra da un momento all'altro cioè o collaboriamo tutti o altrimenti dobbiamo rassegnarci a vedere morti tutti quelli che cercano di fare qualcosa neanche ho paura della morte perché se mi vogliono uccidere io sono qua hai più paura della camorra o dell'indifferenza? dell'indifferenza della camorra no Don Peppe era un tipo passionale era un vulcano un vulcano di iniziative però molte volte nelle proposte delle sue iniziative le prendeva le nostre le filtrava le arricchiva e poi era capace di metterle su in breve tempo io giravo molto l'Italia e lì ho conosciuto il sacerdote innamorato di Dio ho innamorato della sua gente della sua terra Capida era un prete che nella sua normalità ha esplicato l'esercizio del suo dovere del suo impegno e soprattutto della sua prossimità ai più giovani perché quel farsi prossimo ai giovani diventava già una testimonianza e un modello culturale alternativo a quello delle mafie inizia a dire questo non posso dare i sacramenti a chi fa camorra a chi è camorrista una cosa incredibile non con la comunione non faccio più cresime quando intuisco che la cresima non è un sacramento o quantomeno non è soltanto un sacramento ma diventa una modalità militare per legare un giovane ad un affiliato il padrino può essere di battesimo e un padrino di cresima nelle mafie in realtà al di là dei film di Coppola che invece mostra come il termine padrino sia legato al battesimo per le mafie italiane è compare di battesimo il padrino è stato assunto solo dopo il film il padrino è di cresima quando tu adolescente poco più che adolescente prendi i sacramenti della cresima e il tuo padrino cioè colui che tiene la mano simbolicamente e realmente sulla spalla è il tuo protettore all'interno dell'organizzazione criminale Don Peppe dice basta non lo faccio più perché non è più un sacramento diventa come un rito di affiliazione e si oppone non solo Don Peppe utilizza la domenica e quindi l'altare l'omelia la messa come uno spazio dove discutere circa quello che sta succedendo in paese quindi non è semplicemente un un pulpito da cui celebrare o commentare un passo evangelico nei perimetri teologici inizia a dire quello che sta accadendo la criminalità organizzata da sempre ha condizionato Napoli e le altre città della campagna ma a metà degli anni 80 il regno di Raffaele Cutolo è finito da tempo e la camorra cerca nuovi padroni a Casal di Principe la presenza dei clan criminali è massiccia e invasiva e si fa largo una nuova generazione di boss pronta a spodestare i vecchi padrini la storia della camorra casalese parte da qui periodo nel quale la camorra casertana in particolare il clan dei casalesi è all'apice del successo è all'apice della forza di intimidazione in quel contesto della provincia di Caserta ha un controllo massiccio del territorio ha soprattutto un controllo massiccio di tutte le attività economiche ha rapporti strettissimi col mondo della politica delle istituzioni l'uomo che viene ritenuto il fondatore del clan dei casalesi è Antonio Bardellino legato sin dagli anni 70 ai fratelli Nuvoletta di Marano gli ambasciatori di Cosa Nostra in Campania è lui il primo a concepire il clan come un'impresa diventando uno dei maggiori trafficanti di cocaina del mondo è avvenuto per quella camorra che mentre prima si limitava all'estorsione e quindi si limitava a pretendere danaro da chi lo produceva è diventata essa stessa quella camorra produttrice di reddito e si è inserita quindi nel circuito economico più significativo è stato come il passaggio dall'agricoltura all'industria ben presto Bardellino viene eliminato in circostanze ancora oggi misteriose e il suo posto viene preso da Mario Iovine ma anche lui sarà ucciso di lì a poco al comando arrivano Francesco Schiavone Francesco Bidognetti ed Enzo De Falco una sorta di triunvirato senza scrupoli che si fa largo a colpi di omicidi Schiavone è nato sostanzialmente come uno dei pupilli di Bardellino metteva insieme quella dote di esponente dell'ala militare con la capacità anche di fare affari Bidognetti invece dal punto di vista della sua struttura è molto più rozzo fra virgolette cioè molto più dedito alle attività militari che non alle attività di tipo imprenditoriale fra i due ci sono sempre stati rapporti alterni che hanno vissuto periodi di buoni rapporti alternati a periodi di cattivi rapporti anche se formalmente chi avesse visto comportamenti esterni pensava che si trattasse poco più di due fratelli e invece all'interno del clan ci sono sempre state pesanti diciamo situazioni di crisi fra i due ma come spesso accade il potere e i soldi generano divisioni gelosie conflitti a rompere gli equilibri è un episodio che avviene la notte di Santa Lucia del 1990 quando i carabinieri fanno irruzione durante un summit tra i capi dei casalesi a casa di un assessore comunale di Casale l'unico dei capi che non c'è a quel summit è proprio Enzo De Falco e vengono arrestati schiavone bidognetti vengono arrestati numerosi altri affiliati e viene individuato come responsabile della soffiata ai carabinieri proprio De Falco non si saprà mai se davvero De Falco è stato o meno il responsabile della soffiata fatto sta che arriva una telefonata anonima presso la compagnia dei carabinieri di Aversa che avvisa che c'è in atto quella situazione è da quell'arresto che inizia la diaspora dei casalesi che va avanti per due anni a colpi di sangue e culmina proprio con l'assassinio di Enzo De Falco viene ammazzato in modo eclatante con un omicidio particolarmente diciamo vistoso dal punto di vista delle modalità nel febbraio del 91 in quel momento si spacca il clan dei casalesi e una cellula minore quella che faceva capo alla famiglia De Falco si pone in una contrapposizione al gruppo schiavone che però è il gruppo schiavone e bidognetti che resta del gruppo vincente e quindi Don Peppe si trova ad agire in piena guerra civile morti e morti da una parte e dall'altra addirittura un carosello armato fatto dai casalesi Ramos Casando da schiavone che si erano presentati fuori casa dei De Falco con armi alla mano erano seduti col sedere sui finestrini aperti delle macchine in stile balcanico i giornali dissero allora per cacciare De Falco e De Falco viene effettivamente cacciato il fratello ammazzato intanto io ne ho un ricordo da ragazzino ricordo ricordo questa auto con Lucio Battisti si vede che a De Falco fratello detto il fuggiasco piacesse particolarmente Battisti al massimo volume e la macchina crivellata dei colpi di AK-47 e lui ha cacciato sul volante con questa canzone di Lucio Battisti e dicevo quindi per cacciare De Falco si mettono tutti dinanzi questo palazzo e lo cacciano effettivamente perché lui decide di lasciare Casale e gli viene dato dal clan un territorio l'Andalusia non gli viene dato un paesino a fianco come può immaginare un osservatore distante gli viene data l'Andalusia un pezzo di Spagna e quindi Don Peppe si trova a dover mediare giovanissimo in un contesto del genere all'inizio degli anni 90 Casal di Principe ha il record di omicidi di tutta Europa il clima di omertà e paura condiziona il territorio impregnato della mentalità camorristica in quegli anni è sindaco Renato Natale da sempre amico di Don Peppe quando io ho fatto il sindaco mi sono stato eletto sindaco e c'è un'intervista su Repubblica fatta a Don Peppe a me e a Don Peppe nella sua chiesa il mese prima che io venisse eletto e Don Peppe che continua a ripetere che è necessario svoltare cambiare eccetera con me a fianco era chiaro che appoggiarsi in qualche modo questa candidatura anche se non in un modo pubblico in un modo ufficiale a colpire Don Peppe è l'omicidio di un ragazzo vittima casuale delle continue sparatorie tra bande rivali doveva essere ucciso probabilmente un elemento di primissimo piano della malavita locale che viaggiava a bordo di un'auto blindata invece è rimasto ferito mortalmente Angelo Riccardo di 21 anni che con alcuni amici a bordo di un'altra vettura stava andando ad una riunione di testimoni di Geova è un evento che trasforma il suo ministero pastorale è qui che comincia a salire sui tetti inizia a parlare con i ragazzi e cerca di rompere il muro di silenzio che avvolge il paese ricordo che Don Peppe Diana convinse me e alcuni altri amici a fare un volantino a firmarlo tutti quanti assieme e diceva basta con la dittatura armata della Camorra diventa il momento strategico dell'iniziativa pastorale di Don Peppe e degli altri sacerdoti della Foramie di Casal di Principe Ancora prima Don Peppe Diana aveva contribuito a spingere per l'approvazione della legge sullo scioglimento dei consigli comunali infatti appena approvata lui ebbe un colloquio anche col ministro dell'interno Vincenzo Scotti il prefetto di Caserta Corrado Catenacci e la legge fu approvata a settembre del 1991 e il primo comune ad essere sciolto in rapporto a quella legge fu Casal di Principe pace a voi detto questo mostrò loro le mani il costato e i discepoli gioirono al vedere il Signore Gesù disse loro di nuovo pace a voi come il Padre ha mandato me anch'io mando voi dopo aver detto questo alitò su di loro e disse ricevete lo Spirito Santo lui era diventato ormai un punto di riferimento un simbolo girava per le scuole andava a trovare i ragazzi e soprattutto era diventato il punto di riferimento anche di tantissima gente fuori di Casal di Principe del Napoletano si capiva che era un periodo di forte cambiamento e a Casal di Principe cambiamento significa fare qualcosa contro la presenza criminale nei giorni di Natale del 1991 un gruppo di preti della forania di Casale si schiera apertamente contro la camorra con un documento che titola per amore del mio popolo non tacerò un manifesto pubblico che viene distribuito a centenari e centenari di copie da tutte le parrocchie e chi è che lo distribuisce materialmente? Sono i ragazzi delle parrocchie quella dell'azione cattolica Don Peppino era riuscito ad essere il collante di questa parte sana era la voce e la presenza carismatica di questa battaglia che nessuno fino a quel momento aveva posto con quella centralità La camorra è nient'altro che un succedaneo dello Stato cioè che ha la capacità di inserirsi negli intestizi lasciati vuoti e questa affermazione resa nel 1991 non può che essere assolutamente rivoluzionario La lettera aperta è atto pubblico contro il crimine organizzato e diventa il testamento spirituale di Don Peppe Diana Per amore del mio popolo non tacerò a quel punto il messaggio rivoluzionario teologico e politico di Don Peppe è io sono un prete non posso tacere il paese impazzisce perché un prete sa tutto un prete vede vede i ragazzini che crescono poi si affiliano e fino ad allora i preti anche quelli più sani c'erano stati molti legati alle organizzazioni ma quelli più sani si erano tenuti prudenti dicendo il mio mestiere è altro e ascoltare nel segreto del confessionale e parlare alle mogli disperate salvare qualche ragazzino ma non denunciarlo dal pulpito e nella mia attività pastorale questo fa Don Peppe e fu accusato cioè fu accusato fu delegittimato dicendo che era stato ucciso per non aver celebrato un funerale proprio perché la camorra cercava di far passare questo suo impegno pastorale antimafia come una mancanza Don Peppe non è che diceva siccome io sto combattendo i clan da prete non confesso non celebro un funerale assolutamente no era non faccio utilizzare questi spazi per celebrare i vostri poteri e quindi loro utilizzarono questa contraddizione apparente per delegittimare il gesto dei preti della forania è rivoluzionario non può passare inosservato tra i clan e nemmeno tra le forze che li combattono furono chiamati in procura a Napoli tutti i sacerdoti quelli che avevano sottoscritti i documenti per amore del mio popolo il martedì furono interrogati in tank Don Peppe separatamente l'uno dall'altro però neanche questo ci aveva creato molta preoccupazione la paura prendeva man mano che andavamo avanti lui diceva dire su questa espressione il coraggio di dire che io ho paura è il 19 marzo 1994 è l'onomastico di Don Peppe che fa colazione al bar prima di andare in chiesa per celebrare la messa sono le 7 e 25 del mattino un uomo entra in chiesa e chiede chi sia il sacerdote lo raggiunge in sacristia e gli spara cinque colpi in faccia Don Peppe Diana muore all'istante io qua mi trovo nella sua cameretta lui così ha lasciato questa stanza la mattina del 19 marzo purtroppo quel tragico giorno che per noi che ci ha segnato la vita lui si è alzato e si è recato in chiesa perché doveva celebrare la messa e non è più tornato la mamma e il papà hanno preferito al suo posto Gesù Bambino avevo partorito da poco avevo il bambino di 20 giorni e stavo a casa mia e purtroppo è venuta una signora una mia parente mi è venuta ad avvisare giustamente non ha detto il tragico avendo che era successo ha detto devi venire un po' a casa perché hanno fatto male a Pinuccio che noi lo chiamavamo Pinuccio in famiglia ho detto ma che stai dicendo ma sei imbazzita no non ti preoccupare lascia un po' il bambino e vieni perché io ho mangiato la foglia perché poi vedevo mio marito che scappava cioè si vedeva un clima stranissimo allora ho detto ma questo qua qualcosa che non va allora non lo so ho lasciato tutto e sono arrivata qua e sentivo le urla di mia mamma allora ho capito tutto mi recai a Casal di Principe quel che mi colpì fu l'assoluta assenza di persone non c'era nessuno è come se la gente avesse avuto paura di affacciarsi ricordo una sacristia completamente recintata una grande paura nel paese ricordo questa cappa di silenzio all'esterno della parrocchia dove all'alba i killer avevano sparato praticamente in faccia al povero Don Peppino è stato uno shock notevole quella della morte di Don Peppino perché mi riterivo in qualche modo colpivole perché avevamo dato per scontato che nessuno gli aveva fatto niente e poi intanto questo era morto il movente del delitto appare subito misterioso ma sulla matrice camorristica i dubbi sono pochi furono trovati due testimoni oculari del fatto un fotografo amico di Don Peppino che era andato a fargli gli auguri e il sagrestano entrambi fornirono una descrizione sia pur sommaria del killer che aveva ucciso Don Peppino lo avevano visto avvicinarsi questo è un particolare importante chiedere chi fosse Don Peppino perché il killer non lo conosceva quindi chiede a una vecchietta che stava lì chi è Don Peppino si avvicina e lo ammazza arrivai lì verso le sette era San Giuseppe quindi il 19 marzo poi commentammo un po' con le ultime cose del territorio che c'era stato un omicidio io disse bisogna pregare poi la discussione finì lì e si avviò verso la chiesa per dire messa in questo corridoio sentì questa persona che disse chiede a Don Peppe dopo questa questo chiedere questa domanda sentì chiaramente questi colpi questo cadde all'indietro batte pure la testa io lo chiamai Peppe guardai e vedi questa persona che stava stava uscendo insomma dalla chiesa sulla base di queste prime dichiarazioni venne di questi due testimoni vennero effettuate delle individuazioni fotografiche cioè furono mostrati degli albumi fotografici a questi testimoni che individuarono in quadrano Giuseppe l'autore dell'omicidio bastò l'indicazione del testimone anche con margine di incertezza per comprendere che quello doveva essere il soggetto trascorsero diversi mesi prima di arrivare a lui in particolare si riuscì a arrivare a Giuseppe Quadrano perché egli stesso finì per consegnarsi negli anni successivi Quadrano ammetterà di essere soltanto l'organizzatore del delitto insieme a De Falco accusando Vincenzo Verde solo più tardi verrà presa in considerazione la testimonianza di Di Meo e Quadrano sarà condannato in secondo grado come esecutore materiale del delitto Vincenzo Verde invece verrà assolto la condanna la condanna a morte di Don Peppe è decisa in Spagna è decisa dal clan perdente in quel momento cacciato dal clan dei Bardelliniani è decisa dal lupo di un zio di Falco dal nasone Piacenti è decisa da Quadrano esecutore è decisa da quella parte di mondo casalese che vuole comunicare a tutte le altre organizzazioni che sono ancora loro gli eredi di Don Antonio Bardellino quindi sono ancora loro in grado di mantenere la vera leadership delle organizzazioni per dimostrare questo hanno bisogno di un'esecuzione simbolica che dica a tutte le famiglie noi non ci facciamo sputare in faccia da questo prete noi non ci facciamo dire queste cose mettere in difficoltà da questo ragazzino e soprattutto capiscono che ammazzandolo arrivano carabinieri poliziotti e la latitanza di Francesco Schiavone in quel momento era appunto latitante viene messa in pericolo quindi due cose in una militarizzare il territorio quindi andare contro l'organizzazione e dimostrare che l'organizzazione vincente in realtà è debole basti pensare che quando è stato ammazzato Schiavone fa sapere alla famiglia che avrebbe preso l'esecutore lo avrebbe diviso in due tagliato a metà fisicamente segato in due parti messo in una busta e fatto recapitare all'altare di Don Peppe per vendetta quindi da subito si percepì che non era stata l'organizzazione in quel momento un delitto compiuto da De Falco perché la colpa ricada sugli Schiavone un disperato gioco delle tre carte di cui Don Peppe diventa vittima inconsapevole oramai oramai gli Schiavone si stavano avviando a stravincere la guerra contro De Falco un agnello sacrificale che potesse ritardare questa vittoria se non impedirla era Don Diana la logica tipicamente mafiosa è quella di colpire una figura simbolo per far ricadere la colpa della sua morte sulla fazione avversa e quindi di cogliere un doppio obiettivo il primo appunto eliminare un uomo simbolo un uomo che era portatore di valori positivi dall'altro far ricadere appunto la colpa sulla fazione avversa e quindi determinare un intervento giudiziario contro questa fazione Uccidendo Don Diana che cosa sarebbe successo? Che per mesi vi fu una presenza delle forze dell'ordine a Casale di Principe in particolare che non si era mai vista negli anni passati come spesso accade si cercano subito retroscena e segreti nella vita della vittima a Casale circolano strane voci si parla di sgarri ai clan di armi addirittura di donne la vita e la morte di Don Peppe Diana vengono ricoperte di fango per allontanare la verità e liquidare il suo omicidio come uno dei tanti nel giugno del 99 appare un titolo del Corriere di Caserta che dice testuale Don Peppe a letto con due donne e nel marzo 2003 il titolo del Corriere di Caserta recita Don Peppe Diana era un camorrista entrambi questi titoli sono estratti da dichiarazioni di pentiti da interpretazioni di sentenze nel caso di Don Peppe era un camorrista perché nei vari passaggi di una delle sentenze c'era un pentito che dichiarava che Don Peppe era stato ucciso perché custodiva l'arsenale del clan dei casanesi nell'altro episodio invece era stata trovata una foto assolutamente innocua incredibile cioè Don Peppe stava in uno studio tra l'altro scout scout con una signora e una ragazza e si fanno una foto insieme così in questo letto gigante con tutti vestiti e questa foto viene trovata e utilizzata per lasciare intendere il prete donnaiolo questo è un meccanismo che ancora oggi esiste questo è un meccanismo che tocca chiunque si avvicina a questi argomenti e questo è un meccanismo che serviva ed è servito infatti a isolare la storia di Don Peppe ecco perché serviva di legittimarlo così come serve di legittimare fino alla fine tutti coloro che si oppongono alle organizzazioni criminali perché se non dicevi Don Peppe è un donnaiolo se non dicevi Don Peppe è stato ammazzato perché conservava le armi allora allora devi prendere posizione perché sei un codardo sei complice ti serve dire questo e serve anche a tutto quel mondo che non vede l'ora di dire ma queste sono esagerazioni non è così anche la chiesa aversana in questa circostanza ha mostrato debolezze omissioni e reticenze il vescovo di Aversa di allora Lorenzo Chiarinelli ai funerali non pronunciò mai la parola camorra Don Peppe è stato ucciso e credo che oggi la chiesa da quella uccisione deve recuperare una grande opportunità perché il solo sospetto il solo silenzio fatto nei primi giorni quasi quasi accondiscendendo alle calunnie delle mafie e non alla verità che emergeva dall'investigazione che Don Peppe era stato una persona autentica e vera bene quegli attimi di silenzio devono diventare oggetto di riconcigliazione soprattutto della chiesa dei confronti di Don Peppe Diana La vicenda giudiziaria sul delitto di Don Peppe Diana è ormai archiviata ci sono sentenze definitive che indicano esecutori e mandanti tra questi anche Nunzio De Falco e Giuseppe Quadrano oltre a seguire tutti i normali il normale ITER quindi una corte d'assise in primo grado una corte d'assise in secondo grado e una Cassazione oltre a questo si è diviso in due tronconi uno riguardante gli esecutori materiali e uno riguardante il mandante che era Nunzio De Falco La sentenza della corte di Cassazione del 4 marzo 2004 ha affermato in via definitiva che Don Peppe Diana è stato ucciso per il suo impegno antimafia e per nessun'altra ragione Col passare degli anni qualcosa è cambiato merito soprattutto del processo Spartacus l'inchiesta che ha cambiato i rapporti di forza tra giustizia e criminalità nel Casertano condannando gran parte dei capi storici come Schiavone e Bidognetti negli ultimi anni anche i latitanti come Setola Iovine e Zagaria sono finiti dietro le sbarre sicuramente sicuramente rispetto al passato quella cappa si è completamente ridotta sicuramente rispetto al passato si possono persino utilizzare parole come quelle casalesi o camorra che in passato diciamo erano praticamente tabù eppure diciamo dal punto di vista sociale non si intravede quella situazione di particolare bonifica cioè il territorio non avverte un superamento netto della presenza criminale e se oggi a Casal di Principe i segnali di cambiamento sono incoraggianti lo si deve anche a chi porta il ricordo di Don Peppe nel suo lavoro di ogni giorno sono Don Franco Picone sono parroco qui a Casal di Principe da 19 anni ho avuto delle esperienze di parrocchia prima a Giuliano e poi ho avuto la gioia di poter in qualche modo riuscire a tenere alta la memoria di Don Peppino Diana conosciuto Don Peppe che ero bambino avevo dieci anni negli scout e abbiamo vissuto delle bellissime esperienze insieme quasi come se fosse un fratello maggiore Don Peppe Diana ha ricevuto la medaglia d'oro al valor civile dalla presidenza della Repubblica e oggi a lui sono intitolate scuole oratori parchi e strade ogni anno il suo esempio viene ricordato con premi letterari incontri pubblici e manifestazioni grazie a Libera molte terre del casertano sono state confiscate alle mafie e riutilizzate in nome di Don Peppe si svolgono attività ricreative si coltivano prodotti si dà lavoro stiamo provando in questi anni a distruggere a colpire anche quell'atteggiamento culturale che è il danno più grande che la Camorra ha fatto in questi territori che è quello appunto di pensare che nulla è possibile fare che non si può cambiare niente che tutto deve andare così che quindi non c'è speranza invece quest'anno soffiono venti di cambiamenti venti di speranza non a caso le cooperative che lì sono nate per liberare quelle terre dalla presenza della violenza criminale mafiosa camorrista ma vuol dire soprattutto liberare le persone e non a caso quelle cooperative si chiamano le terre di Don Peppe Diana e quei prodotti hanno quella vitamina in più che è la vitamina della legalità della dignità umana dei diritti certo anche della responsabilità dei doveri della giustizia e della libertà l'eredità di Don Peppe si è sedimentata nel tempo innanzitutto il suo sguardo sulle cose sul piano direi quasi scientifico Don Peppe parlava di Camorra come dittatura sul territorio quindi ne dava in questo senso un'interpretazione politica fortissima e l'eredità rimaste ragazzi gli scout a chi lavora le terre sottratte ai clan è proprio in continuità con questa sua interpretazione cioè togliamo spazio alla dittatura armata quindi la terra le bufale la mozzarella il vigneto zolla per zolla moggio per moggio sottrarre terra la tirannia camorrista quello che rimane ed è la verità è che Dondiana fu un martire cioè un testimone nel senso etimologico della parola martire che appunto in greco significa testimone uno che testimoniò le cose in cui credeva e che fu individuato come bersaglio proprio per questa testimonianza l'eredità più grande resta la sua meravigliosa frase verso scritto insieme agli altri parloci della forania cioè per amore del mio popolo non tacerò non tacere significa raccontare raccontare significa amare la propria terra partecipare in una parola comprendere che nel momento in cui desideri vivere non puoi far altro di ribellarti la camorra oggi è una forma di terrorismo che incute paura impone le sue leggi e tenta di diventare componente endemica della società campana i camorristi impongono con la violenza armi in pugno regole inaccettabili è ormai chiaro che il disfacimento delle istituzioni civili ha consentito l'infiltrazione del potere camorristico a tutti i livelli la camorra riempie un voto di potere dello Stato che nelle amministrazioni periferiche è caratterizzato da corruzioni lungaggini e favoritismi la camorra rappresenta uno Stato deviante parallelo rispetto a quello ufficiale prive però di burocrazia e di intermediari che sono la piaga dello Stato legale l'inefficienza delle politiche occupazionali della sanità eccetera non possono che creare sfiducia negli abitanti dei nostri paesi un preoccupato senso di rischio che si va facendo più forte ogni giorno che passa l'inadeguata tutela dei legittimi interessi e diritti dei liberi cittadini forse le nostre comunità avranno bisogno di nuovi modelli di comportamento certamente di realtà di testimonianza di esempi per essere credibili alla Chiesa che non rinunci al suo ruolo profetico affinché gli strumenti della denuncia dell'annuncio si concretizzino nella capacità di produrre nuova coscienza nel segno della giustizia e della solidarietà dei valori etici e civili non rinunci non rinunci non rinunci non rinunci